Ursula, non me ne vorrà se diciamo anche su questo facciamo un veloce riassunto del lavoro che il Governo ha portato avanti fin qui. Con il decreto 61 noi abbiamo stanziato quasi 1 miliardo 800 milioni per la tenuta del sistema produttivo ai livelli occupazionali, con successivo decreto 88 altri 2 miliardi e mezzo per la ricostruzione pubblica, oltre 120 milioni per i primi contributi alla ricostruzione privata, 100 milioni per le imprese, cerco di andare un po' più piano, poi altri 149 milioni si sono aggiunti con un successivo provvedimento, con il lavoro del Commissario Figliuolo che pure devo ringraziare, dei 2,5 miliardi stanziati per la ricostruzione pubblica sono già stati messi a disposizione degli enti locali una somma pari a 1 miliardo 600 milioni, a queste risorse se ne aggiungono altre pari a circa un miliardo già nella disponibilità del Commissario.